Noi dell'Italia Valori abbiamo depositato oggi stesso un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Difesa della Russo. Lui che dice che tanto ci tiene all'arma può permettere che servitori dello Stato vengono usati per fare da autisti, da guardia a spalle, a signorine utilizzate solo per fare da divertimento ad alcuni potenti, tra cui in primo luogo proprio il Presidente del Consiglio. Lo dico non solo come cittadino, lo dico non solo come esponente politico dell'opposizione, ma lo dico come persone che per tanti anni ha avuto e dalla scorta per motivi di sicurezza. Voglio rispondere all'appello accorato dei carabinieri della scorta di Silvio Berlusconi e lo faccio per difendere l'istituzione, per difendere quell'arma che con il sacrificio di tanti carabinieri caduti per servizio e per servire il Paese oggi si ritrovano a fare da autisti all'escort e alle poco di buono che vanno a trovare il Presidente del Consiglio. Leggo testualmente cosa hanno dichiarato alcuni carabinieri che fanno da scorta alla Berlusconi e alle sue case. Carabinieri, ufficiali di Polizia Giudiziaria, persone che rischiano e dovrebbero rischiare la vita tutti i giorni per noi. Dice uno di essi, non ne possiamo più, non siamo diventati carabinieri per fare la guardia alle escorte del premio. E aggiunge, qui ci fanno fare i tassisti dei festini, per questo dopo essere stati zitti e obbedienti, ora vogliamo al nostro rischio far sentire la nostra voce. Ogni fine settimana, soprattutto da venerdì a lunedì, si moltiplicano personalità che vanno alla villa di Silvio Berlusconi e noi aspettiamo fuori. Moltissimi vengono con auto a noleggio, altri con conducente, alcuni pulmini, 10-15 posti, alcuni accompagnati direttamente. Insomma, un via vai di persone che vanno lì a partecipare a festini. Ora, che il premier faccia i suoi festini a casa sua, sarà a casa sua, farà quel che vuole. Ma l'idea che, come dice un carabinieri, che devono accompagnare personalità che fanno il giro a loro volto per riaccompagnare le ragazze nei residence milanesi a Torre Velasca, è umiliante, è imbarazzante salire in ascensore con un signore anziano e una ragazzina. Questo paese non merita Berlusconi e Berlusconi non è degno di fare il Presidente del Consiglio.